Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete. Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete. Queste parole sono di Cristo e i Suoi discepoli, non solo presenti, come erano allora gli Apostoli e gli altri che lo seguivano, ma ancora futuri, nel quale numero siamo chiamati pur noi. La nostra sorte, infatti, di nulla è inferiore alla loro. Che vedevano essi perché furono detti Beati? E che vediamo noi perché non possiamo essere con loro pure Beati? Vedevano i loro occhi il loro precettore, secondo che fu già profetizzato per Isaia, ma nello stesso luogo fu pure predetto a tutta l'avventura chiesa che mai più sarà levato via da lei il suo Maestro, e a noi pure, promise Cristo, io sono con voi tutti i giorni sino alla consumazione dei secoli. Forse che quelli che secondo la carne hanno conosciuto Cristo saranno più beati di noi che secondo la carne già più non lo conosciamo? Anzi, io leggo. Beati quelli che non hanno veduto ed hanno creduto. Come dunque beati gli occhi che vedono? Se non che sono due modi in cui si può vedere Cristo, per senso e per fede. Nel primo modo fu veduto Cristo anche dai suoi nemici, e tanto è lungi che questa vista abbia potuto farli beati, che anzi li fece più miseri dicendo pure egli, se io non fossi venuto e non avessi parlato con loro, non avrebbero così aggravata la loro colpa. In tutti e due i modi lo videro gli apostoli, e perciò meritarono i loro occhi di essere chiamati beati. Nel secondo e più perfetto modo lo vediamo noi adesso, cioè per fede, e perciò se a noi manca la vista sensibile, non siamo meno di loro beati. Consideriamo però brevemente questa nostra beatitudine, che consiste nell'averci Dio chiamati all'ammirabile lume suo, nella parte dei santi, e nell'avere illuminato gli occhi della nostra mente e giustificati i nostri cuori per mezzo di questa sua legge di fede. Vediamo in insomma quanto felice sia lo stato nostro nel suo Vangelo e nella sua grazia. A rivelare un sì gran beneficio da molti quasi dimenticato, ci impegna la gratitudine che dobbiamo a Dio. L'amore della nostra salute necessariamente vi ci stringe per averne ad usar sempre ad aumento della nostra giustizia, per non abusarne mai a maggior nostro supplizio. Grazie. Grazie. Grazie.